CRASH ROYALLE Salve a tutti ragazzi Ciao ragazzi Oggi siamo qui con un nuovo video Come potete ben vedere Si è sbloccato il baule gigante E stamattina Sorpresa sorpresa Nello shop possiamo acquistare un baule Leggendario E visto che 500 gemme le teniamo Anzi anche qualcosina in più Lo prenderemo Nel frattempo ho conservato anche Vari bauli ad esempio l'omaggio L'argento E anche quello della corona C'è un bel po' di roba da aprire Da scoprire Quindi abbiamo aspettato per farlo insieme a voi E speriamo Speriamo che non ci escono comunque le carte del cazzo Oppure speriamo che ci esce un'altra leggendario In questi bauli del cazzo Chissà Io direi di partire con quello omaggio 77 è buono Fornace non mi piace 10 barbari mi piacciono Bene Poi passiamo all'argento Gli ami in ordine di importanza Meno oro vorrei far notare Un'altra carta di merda E un'altra carta di merda Di merda Bene Bene 24 bombarolo che non uso Però buona carta comunque Si cazzo di mortai Basta 8 giganti Buoni Buono buono E epica Specchio Vabbè io direi comunque l'epica Così buona Molto buona Nel clan no Vabbè hanno abbandonato qualcuno Nel clan non importa Io direi di passare allora Giustamente Al gigante Vabbè Aviamolo 1800 Buono anche se io speravo di arrivare sui 2000 Però Vabbè 1800 buoni Iniziamo con una furia Ed è buono perché Non è facile che esce l'epica Sì non male 31 maghi Stregoni Va la miseria Questo è un botto Buono Questo è un botto Molto buono E 272 barbari Assurdo Assurdo perché i barbari Mi servono Buonissimo Che paule Ok però dobbiamo passare al pezzo forte Il vero pezzo forte Stai aspettando Lì eccolo Guarda come lucida Come luminoso Come furia Lo compriamo Lo compriamo E compriamolo E compriamolo Sì 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 cazzo Sì Finalmente Questa grandissima Toccola Lei La principessa Troia Sì Proprio lei Esaurito Adesso si è usarito anche il baule Si è usarito Insieme a noi Si è usarito anche il baule Beh basta Adesso in diretta Facciamo la sostituzione No che cazzo ho fatto Ok Beh vabbè Adesso bisogna un po' provarlo Il mazzo Provarlo e riprovarlo Finché non si trova Il giusto assistimento Sicuramente Ma In un prossimo video Sicuramente E Faremo vedere anche Delle partite di prova Con la principessa Sicuramente 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 Ok ragazzi Sperando che non faccia la troia Per Diciamo L'arena 9 Però No va bene La principessa Non è una brutta nominata Nel quartiere La principessa Va benissimo Ok ragazzi Noi come al solito Vi ringraziamo Se vi va Lasciate un mi piace Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Supportateci Più che potete E ci vediamo Al prossimo video Bella raga Grazie